iniziamo con la grand final conoscendo tutti questo match up per chi segue sempre c'è in italiana esattamente al primo momento che eroi entra è finita per min min per quanto aggressivo questo personaggio mentre comunque sia min min già con cui tu per agire ha dato lo sauer spot nel mentre è partito il buon controllo dei stage di si non è già porta via la prima stock con la velocità della luce già in vantaggio per si ron il job di roy che prende dietro e fa sempre spaccare molto più tranquilla adesso questo punto anche se l'inizio è stato molto più veloce quanto si aspettava becker che va a prendere si ron e con un fair si riporta a casa con uno stage con stock even percentuale è ancora abbastanza even per quanto roy attraccivola in due secondi nette la stessa percentuale di danno a per poco entra la smash mentre gli olt andrà a perdere no riesce a recuperare a pelo nir che entra per poco setup del set b ma non gli entra tutta litte completa aia è benissimo il bait e siamo già ancora in vantaggio per gli olt molto tranquillo gli olt questo sembra un po nella virtù di roy sei nel suo playground devi aspettare le sue risposte e andare oltre le letture di roy però qua per poco mamma mia bellissimo la lettura del dodge una per si aspettava qualcos'altro sicuro non down air bellissima grab sono tanti su uno stage controllo di min min non ce la fa in tempo perché è tenuto fin troppo aaaah mio dio quanti bait benissimo il viattato attacca mi fa smattare ogni volta siamo passati da game che durano eternità a rush down completo che sono due minuti game vedremo i stage che banderanno ora la question ci sta ci sta non è un pic così sbagliato si chiama ricordati il pattern non si ricorda il numero bene si non si ricorda tutto ma non si ricorda il numero della skin non si ricorda il numero 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 eh 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 ok partito doppio down throw near near fair ah non è entrato il fair è entrato un altro fair però mmm uh per poco entra il drago però adesso è molto più stage controllo di syron adesso è molto più tranquillo il disco che entra con l'ultimo hit e cos'è di più che killa no bellissima la di hai fair che evita per poco grazie al dodge fantastico drago ritorna con un po' di pressure col disco però riesce a recuperare tranquillamente gli oltre cos'è di più stavolta che killa un air che entra con tranquillità e un down air che spica un millimetro dal terreno footstool nel mentre stanno accadendo robe che non dovrebbero accadere sicuro oh il volt che prende ma ovviamente non fa quel mega danno se non è caricato il drago è che riesce a prenderlo forse era un shit poco ha droppato molto più gameplay col disco mentre siamo tornati siamo adesso su una situazione dove vuole syron mantenere un po' la distanza e stare attento alle risposte di yolt mentre il disco che killa so che even percentuali però stavolta è molto più grave per syron visto che yolt può racimolare con roi un fracco di percentuale in nulla però syron stava decidendo di benissimo il milano che non tackle down e knockdown e si becca un 60% e però qua un fear che porta 115 un altro sbaglio e può portare un kill fatto in left tilt di risposta precisa ultima so che persino per questo game 2 un up smash che hita per poco adesso hita bene l'up smash qua yolt vuole racimolare più down facilmente non vuole andare molto cattivo eh però adesso stava andando parecemente cattivo ah bellissima la lettura del dodge 1-1 però si non sta lasciando fin troppo lo spazio per recuperare yolt ah la grab che evita per pochissimo ah si aspettava un rollo yolt con un air con un doppio smash che non entra può entrare con un air cercava un fear e con un down air cosa è successo bellissima la grab visto tanto che anche si non ne sia stupido di quello che è successo disco che l'ha lanciato troppo alto si aspettava un salto lascia attacchi che non va a killare bellissima la di 125 qua basta anche una ft una jab o qualcosa per killare ah per poco mancava la risposta benissimo la risposta dei rejump con il drago la grab che riesce ad entrare lancio col disco ma riesce a recuperare ancora yolt cerca che un po' di pressure con una volta il drago ah la ft entica non riesce a punire l'ampicata per poco ma non killa down air benissimo il modo che recupera searon ah smash che mamma mia la di ai per poco per recuperare nooo non ha letto roll non ha letto cross up ok bisogno c'era per gli olt e se ancora lo bastion vogliono essere precisi puntali così arrafico ta 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 perchè sta già che diranno gli stessi ban e quindi sono nello stesso stage si leggono già nel pensiero questi uomini siamo nel pappabile game del torneo ancora ovviamente lo bastion con destati fai già molto più mix più pazienza di siaron però un assetto sbagliato apporta effettivamente a questo differenziale di percentuale abbastanza piccolo ma però può anche notare può essere noto in certa situazione però vabbè cosa è quello che ha preso nel smash attacco ok al smash che porta una precettata già abbastanza alta per roi però come ho già dimostrato a roi basso due colpi e già il danno è altissimo a te non ha peccato però gli è andato bene per il bounce down throw che cerca di chiedere il drago che non riesce ad entrare sbaglio il set B check un po' col disco benissimo la reazione col drago e questo è il primo vantaggio di questo set ma per poco non riesce a prendere il set B check ancora un po' di presso con una pera smash quando corren nella piatta aspetta 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 eh si aspettava quello yolt però poteva fare una punish migliore ecco la punish migliore di set B ti riporta come uno stock even belle risposte di up smash adesso un gameplay molto più tranquillo molto più a favore di Ceyron di Ceyron essendo un PG che non vuole essere abbastanza caotico anche se c'ha in mezzo anche lui anche lei un bel mezzo caotico che riesce a punirlo e finalmente riesce a portare ancora un altro vantaggio per Ceyron ultimo sacco per gli otti costa game 3 yolt riesce comunque a connettere due e tre hit ma non riesce a portare la salsa alle conferie finali e questa è la conferie finale che gli serviva riesce a recuperare però questo è un po' su come la situazione di yolt sbaglia la smash che kill siamo arrivati ancora con lo last stock di questo game 3 ah cercavo un mix ottimo yolt però non gli è riuscito disco che porta ma il prezzetto è abbastanza even ah però pochi colpi ed è quello che accade scenderà con un air no no voglio rimanere molto più tranquillo sull'anestrat sbaglia la conferma non ci credo bellissimo la recovery qua a 99 molto più paura adesso oh mio dio per un 3 per 3 pixel a fa capato una recovery v1 v1 incredibile sei l'unica persona che non fa parlare di niente di normale quindi puoi fare un po' di giochi nei stage band ci sta tra due uomini che si affrontano in continuazione in torneo alcuni dei match più ripetuti in nord italia questo se non il più ripetuto di questi due anni e siamo qui a game 4 town and city stage molto azzardato perché essendo comunque uno stage abbastanza ampio per min min c'è comunque molto più più spazio per riflettere fuori più per avere un molto più spacing ma nello stesso tempo non può commettere comunque gli errori perché comunque stiamo parlando di roi anche di un min min contro un pg veramente aggressivo che i porta a danno con una facilità impressionante che è roi molto spaziato questa decisione però ottimo la risposta comunque di siron e c'è una grab con una pair non porterà mai una kill però a 130 e comunque la precettola è veramente alta e con la non sento mica non riesce connettere neanche con lo sweet spot siron è molto più paziente però con un back air che riesce a punire bene il movimento di siron ecco la prova di quanto questo pg bassa poco e ha il 30% garantito adesso si notano sull'auto yacht molto più tranquillo nelle opzioni dopo nelle sue combo stando attento anche la di di siron e stando attento anche le opzioni che può tirare da un tilt che cerca comunque il doppio dash ma ah benissimo bait però non c'è riuscito a punirlo per poco non entravano due job neanche uno ah non riesce a setappare il set B la terza volta che non riesce a setappare questo set ma proprio va bene poteranno una smash che so proprio con un'ottima diai ma con un fair ho un'ottima risposta siamo un mega vantaggio per Yolta adesso ultima stop papà vive persino in questo set e per questo torneo molte risposte col disco che non che la Roya c'è 50 ma adesso il laser kill 2 a 1 però deve farsi un'intera stock sino senza andare nel panico e contro il PG del genere basta un'opzione sbagliata e può partire il momento panico ah benissimo il roll e kill no no kill ottimi ottimissima la diai qua con un air che prende così down air adesso gioca molto il più col disco per ci sento per come va sempre a recuperare Yolt in alto oh mio Gio Yolt quanto paziente era nelle opzioni con un air che lancia completamente alto sbagliata tantissimo con un altro air che kill ha no 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 no